Salve, sono LethalBrainNinjas e terzo tentativo del livello 13 Io lo dico, la modalità sfida mi distruggerà Ma come faccio a farla... cioè, non dico che non riuscirò a fare le cose Ma come faccio a fare la modalità sfida senza perdere Pigmin Se sono così uno svampito nella modalità normale Non so nemmeno come evitare quel suo attacco marcio Posso uscire rapidamente da qui, no? Ok, la prossima volta che mi prende di mira... via subito Tu stai qua e spera che non ti colpisco col laser Ok Power up Via 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 Sì, sì, sì! Via! No! Ok, il ragno. No, 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 no! Fuck! Salve a tutti ragazzi, quarto tentativo nel livello con il ragno macchina, sì, ragno macchina, in mezzo all'acqua per di più, quindi gli unici ragazzi che posso usare sono i miei vecchi amici, i pigmin blu. Ok. Con la partecipazione speciale di un colmin. E voi già li andate a quel paese, no! No! Ecco, voi già li andate a quel paese, già sembrava un'espressione razzista contro gli asiatici. Ok, con la partecipazione speciale di un colmin. Ok, stavolta il presidente e i pigmin se ne stanno fuori dalle balle, qui nell'angolo, a piangere, ok? Olimar va per conto suo con i suoi tiratori scelti e cosa sono poi. Ok, il modo migliore è avere pigmin fiore e con il potenziamento dello spray sono rapidi abbastanza da sfuggire alle pallotte, insomma. Ok, via! L'unica zona protetta è qua dietro. Quindi, non lasciatelo avvicinare troppo alla zona protetta. Mi interessa se mangio tutti i miei spray. Ok. Siamo troppo dispersi, cacchio! Non mi piace quando si mette lì in metà sull'acqua. Nooo, quel pigmin è fottuto! Nooo, quel pigmin è fottuto! Ok. Via! Quasi morto, quasi morto. Non tornare sulla tua isola. Non tornare sulla tua isola. muori, 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 muori! Uhuu! Sì, muori! Lasciaci in pace! Accidenti! Mamma mia! Perchè ci mettono questi boss? Perchè? 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 On è heureux maintenant! Per l'instant. On va attendre... ...justque... ...justque... ...commen di... ...jusque prossien niveau. Me ne spero anche se è il dernier N'espa? Ok Bene Non so a quanto sono Ho registrato 21 minuti ma ho ripetuto 4 volte la cosa quindi Comunque mi fermo qua Vi ringrazio di aver guardato il video Spero che vi sia piaciuto anche se ho fallito qualche volta Ehm Niente Se vi è piaciuto se volete iscrivetevi Commentate Mettete mi piace O Mandatemi soldi No scherzo Comunque grazie alla prossima Da Lethal Blade Ninja e i Pikmin Wow